Rimostrate questo posto come un calzino! Se Stag si illude di nascondere i suoi dati, sbaglia di grosso! Faremo a pezzi questo maledetto dirigibile per trovarli! Che dici di baff... E' a questo che serve il drone! Che vengono! Ecco la console. Per poterla utilizzare devo prima ripulire la stanza. Stag ha deluso lo spaventapassere! Sì, non commettiamo lo stesso errore! Troviamo Batman e gli troviamo quei dati! Uomo! Deve aver usato una spazio di granata per fregarci! Uomo a terra, verifico! Copritemi! Rilevo un segnale! Ci sono stracce dappertutto! O una certo di agganciarlo! Che sta? Sto scappando! Stiamo lì addosso! No! 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 La terra! L'abbiamo preso! Oh! Ora sei con mamma e papà nel grande country club del cielo! Non ci credo, Batman non è così stupido da tentare di salire! Andiamo ora! È andato di qua! Batman ha avvistato il conto e l'osservazione! Niente! Non gli sto dietro! Guarda come sta quello che Batman ha avvistato! Lui! Che sta? No! Sta andando su! Seguiamolo! Di cuore da questa parte! Vai! È andato di qua! È andato di qua! Le ho eliminati! Ora posso usare quella console per neutralizzare le difese del dirigibile! Perfetto, Batman! Mamma mia! Non è merito della nuova tutta, vero? Non tenerò il calcino all'interno! I comandi dell'armamento sono bloccati da un rilevatore impostato sulle impronte di Stegg. Mi servono le impronte complete per entrare. Forse le telecamere di sicurezza possono aiutarmi. Le immagini potrebbero mostrare se le mani di Stegg hanno toccato delle superfici durante il sequestro. Potrei ricostruire le sue impronte da quei punti. Perfetto, il nostro corso di Stegg. Steg non sta lasciando impronte in questo fotogramma. Steg avrà lasciato un'impronta là sul pavimento. Meglio controllare gli altri punti che ha toccato. Potrei ottenere una serie di impronte completa. Non è abbastanza. Devo trovare punti in cui qui non c'è nulla che mi aiuti. Devo trovare un momento in cui Steg tocca una superficie della stanza con la mano. Non è un'impronta completa. Mi serve un'immagine di Steg che tocca la stanza. È difficile che Steg abbia lasciato impronte in quel momento. Qui non c'è nulla. Devo trovare superfici che Steg ha toccato quando l'hanno rapito. Ha toccato il suolo lì dopo essere caduto dalle scale. Dovrei cercare altre impronte. Qui non va bene. Steg non tocca nulla in questo fotogramma. Ha toccato quel parapetto quando si è rialzato. Dovrei cercare altre impronte e ricostruire la serie. C'è un'impronta della mano di Steg all'uscita. So dove Steg ha lasciato le sue impronte. Non devo fare altro che scansionarle. Allora, qual è l'idea qui? Cercare una corrispondenza rimettendo insieme tutti questi minuscoli pezzettini? O già a proposito di pezzettini, cosa credi che faranno a Barbara? Qui c'è l'impronta di un indice. Ancora tre luoghi da scansionare. Sono riuscito a ricostruire. L'impronta del medio di Steg. Ancora due scansioni. Ho completato la ricostruzione dell'impronta di Steg. Resta un sito. Ho il set completo. Ora dovrei avere accesso al sistema informatico di Steg. Benvenuto, signor Steg. Non posso neutralizzare a distanza i mitragliatori dell'altro dirigibile, ma posso controllare quelli su questo. Le armi sono sistemate. Tocca allo spaventapasseri. Tocca allo spaventapasseri. Tocca allo spaventapasseri. Tocca allo spaventapasserie. Grazie a tutti 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 Stag Grazie a tutti 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 Il nostro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vengo a tutti Grazie 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 a tutti Muori Ti prego Grazie a tutti 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 Il nostro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti